Tra le tante voci di mercato più o meno fondate e soprattutto inevitabili in questo momento ce n'è una confermata dalla Presidente Daniela Sebastiani. Il Cagliari mi ha telefonato e non il Palermo per Federico Melchiorri. La risposta è stata questa, non se ne parla, è incedibile. Melchiorri ce lo teniamo ben stretto, il nostro è un progetto, stiamo gettando le basi per un futuro, ci auguriamo, foriero di soddisfazioni. Il gruppo non sarà affatto smembrato, andrà a giocare solo chi lo chiede perché non trova spazio, ovvero i vari Appelt, Nielsen e Bjarnason. Per l'islandese, confermo l'interesse dell'Empoli, a breve ci vedremo, del resto la volontà del calciatore, professionista esemplare, è di tornare a giocare in Serie A. Cercheremo di accontentarlo. La posizione di maniero? Pippo continua, Sebastiani è il nostro capitano. Qui sono particolarmente legato, il capo cannoniere del campionato, si intende alla perfezione con Melchiorri. Sono convinto che troveremo un'intesa circa la prosecuzione del rapporto in scadenza. La nostra volontà è chiara. Intanto la squadra continua il mini ritiro a Roma. Il difensore centrale, Emanuele Pesoli. Pesoli, anche il momento di tracciare un bilancio di questo girone di andata. Grandi difficoltà all'inizio, state uscendo fuori, come si suol dire, alla distanza. Speriamo che sia così. Sì, quello si spera. Speriamo che sia un 2015 di grandi soddisfazioni. Abbiamo avuto una partenza un po' rilento, ma secondo me non nel gioco. Ci siamo messi a posto tatticamente, ma no perché prima era sbagliato il modulo. Eravamo magari un po' troppo così, non eravamo soliti. C'è stato un grande rientro, che è quello di Memushay, che ci ha dato una grande mano pure a livello di schermo davanti alla difesa. Riesce a fare tutte e due le fasi con grande qualità. Un presidente che ci è stato sempre vicino, anche dopo il 5-0 a Carpi, io non ho mai visto una cosa del genere, è entrato dentro lo spogliatoio e ci ha incoraggiato. Perché comunque, secondo lui, la strada, gli allenamenti che interpretavamo con l'allenatore erano gli allenamenti giusti. Quindi ci voleva un po' di tempo. Che cosa è successo quest'anno a Pesoli? All'inizio magari hai pagato una condizione fisica imperfetta, poi però ti sei ripreso, però non è il peso che ho visto qualche anno fa in quel campionato straordinario che disputasti a Varese. Correggimi se sbaglio. Sì, ho fatto diverse stagioni a buoni livelli. Varese è stata quella che mi ha dato più soddisfazione. Comunque abbiamo centrato di play-off. Quest'anno sì, sono partito un po' a rilento, comunque ho avuto infortuni all'inizio. L'ultima partita che abbiamo fatto, una palla dentro, sembra che dove sto io succede qualcosa. Soltanto con l'aiuto del gruppo un giocatore ne esce fuori, da solo non va da nessuna parte. Leggi i giornali o guardi le trasmissioni? No, no, le trasmissioni le guardo, però mi capita quando... Meglio! Sì, lo so, lo so. Però ecco, ci sta, è il nostro lavoro e quindi le critiche fanno parte di questo. Insomma, accetti con serenità. Verranno anche momenti dove magari farò un golletto, una bella prestazione, magari ci andiamo a bere una cosa con i giornalisti che mi hanno dato sotto. Assolutamente sì e tra l'altro io ricordo che Sfiorato sarebbe stato un gran gol col Frosinone, grande parata di Pigliacelli. Sì, fece una grande parata. Quindi al prossimo aperitivo con Emanuele Pesoli non è che ci dai la cicuta, no? Che cos'è la cicuta? C'è il veleno, no? Ma no, ci facciamo... Che si becca? Di tutto. Un vinello bianco? Un vinello bianco ma anche un po' di rum, ti piace il rum? Facciamo cioccolato e rum, no? No, 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 io uso... Allora, vino bianco, secco, fermo oppure frizzantino? Vino bianco, sì, fermo. Benissimo, grazie. Ciao ragazzi, di nuovo.